ciao sommaggia ti voglio raccontare la mia storia amici ed amiche in ascolto benvenuti a questo nuovo appuntamento con la c***a matica la regina delle televenti ciao quello che avete ascoltato è il frutto di un lavoro discografico che abbiamo realizzato circa 25 anni fa eravamo un gruppo di amici si parlava di più o del meno che dobbiamo fare ma perché non faceva una cosa così e l'abbiamo fatto il disco è andato molto bene e quindi poi dopo pensavamo sempre di rifarlo di fare qualche altra cosa tutto ciò non è successo chi rifugiava a destra e chi rifugiava a sinistra detto questo noi abbiamo realizzato questo video oggi per sapere appunto da voi se volete il ritorno di ricambucciano quindi fatecelo sapere attraverso i nostri social e innanzitutto iscrivetevi alle nostre pagine ufficiali di facebook instagram e twitter come vedete il logo del porco chissu.ca quelle sono le nostre pagine ufficiali iscrivetevi condividete e fateci sapere se volete ritorno di ricambucciano se lo volete siamo contentissimi se non lo volete si da s***** di per la gente